È uno straordinario viaggio, siamo partiti da Sibona in direzione Roccaraso. L'importanza di questa iniziativa è enorme perché attraversando le montagne avruzzesi, le zone interne della Maiella, si può rappresentare la bellezza di questo territorio. L'importanza per la promozione turistica è altissima e l'iniziativa di perrovia dello Stato è assolutamente puntuale. Le istituzioni, in particolare il Parlamento, il Senato ha appena approvato una legge proprio per riconoscere le ferrovie storiche e per supportarle. E nell'elenco delle ferrovie storiche da riconoscere e supportare logicamente c'è proprio anche la Sibona Carminone. Quindi iniziativa di grande importanza da parte delle istituzioni, ma questa di oggi, in occasione di 120 anni, con l'occupatore a vapore e con questa meraviglia di paesaggio, è il segno che le zone interne del turismo possono ritrovare il loro futuro. È stata una bella iniziativa sul pombo la nostra della comunità campoggiovese, quella di ricordare il 120esimo anniversario della tratta ferroviaria sul Monacarpinone. Un segno di affetto, diciamo così, per tutto quello che la ferrovia ha rappresentato in questi 120 anni in termini di sviluppo, lavoro, innovazione e turismo. Quindi per tutto ciò che è stato e per tutto ciò riteniamo che possa ancora essere. E quindi ci auguriamo che da lì torni a servizio della propria comunità e a sostenere la propria comunità di buono lì. Merita e merita? Scendete un attimo perché merita. Le rotaie e il treno portavano in questi territori la possibilità di movimento, la libertà, lo sviluppo in una fase molto importante di crescita. Ancora oggi questa linea e la transiberiana è la dimostrazione è ancora un'opportunità per il futuro. Il futuro perché oggi queste aree che sono piene di bellissime attrattive turistiche sono attraversate da una ferrovia che può ancora portare molto turismo, molto sviluppo attraverso appunto questi viaggi meravigliosi. Oggi questo treno è pieno di gente, ieri, domani ancora un'affluenza pazzesca. Noi dobbiamo lavorare perché intorno a questa tratta si crea un'offerta turistica veramente strutturata. Sul Mona può avere un ruolo importante e la stazione di partenza lì con gli operatori del settore, il sistema governance del territorio e gli altri sindaci dobbiamo definire una strategia completa. Ferrovie dello Stato ci ha dato la tua politica, dobbiamo lavorare per il progetto integrato. E' questa una delle ferrovie più belle d'Italia in uno scenario meraviglioso del nostro Abruzzo interno. Io sono felice oggi di essere qui e mi auguro che questo treno possa avere ancora una vita lunga come i 120 anni che già ha vissuto. E' un treno fondamentale per il nostro turismo, porta qui ogni fine settimana centinaia di persone che sono vitali per le nostre aree interne e quindi io mi auguro che possa avere altrettanti marchi ancora di successo. Prego. Un evento importante, un momento di ripresa di quella che è stata la storia di questa data ferroviaria che può costituire sicuramente un rilancio di un modello di trasporto ferroviario il più coerente con quella che è l'immagine della regione Abruzzo, cioè regione Abruzzo verde del mondo. Il trasporto ferroviario rimane pur sempre il modello di trasporto più coerente con l'ambiente e sicuramente il più successivo per quella che è la facoltà e la possibilità di vedere e quindi di osservare le impedenze naturali da questa tratta ferroviaria che è il cuore della regione Abruzzo. 120 anni per festeggiare un compleanno importante di una ferrovia che fu un grande progetto ingegneristico alla fine dell'Ottocento per poter fare sì che questi luoghi che già allora avevano problemi per mantenere la popolazione mantenessero attività importanti che fassessero insediare il popolo nel futuro. Poi si ebbe un discreto successo tra le due guerre per la parte industriale, c'era un birrificio nella zona locale, c'erano traffici legati anche addirittura a transumanze di animali oltre a merce. Poi c'era un grande presidio dei campi militari che permettevano quindi una vitalità alla ferrovia. Seconda guerra, distruzione, ripresa negli anni dal 55 al 60, però nel frattempo è avvenuta una trasformazione, c'era la gomma, c'erano i bus più flessibili e quindi gradualmente la gente si era trasferita su questi nuovi mezzi di trasporto. Finché è stata chiusa nel 2011 e si facevano allora 6.000 persone su 365 giorni, quindi poco più di 20 persone al giorno. Non aveva più senso mantenere la ferrovia in quel modo, però recentemente l'abbiamo riaperta con un obiettivo completamente diverso, quello di valorizzare turisticamente con dei treni storici, una sorta di museo viaggiante, queste bellissime opere d'arte ferroviarie dentro degli spettacolari scenari naturali, ma molto spesso anche di grande validità storica. E abbiamo visto che la risposta è stata importante. Quest'anno chiuderemo con circa 17.000 persone che viaggiano sui nostri treni storici, ma che facciamo in solo 24 giorni, cioè facciamo due giorni per ogni 15 giorni nel weekend. Capite che la cosa è completamente diversa. Ed ora con i progetti che possiamo costruire attraverso la nuova legge per la ferrovia turistica, che è stata recentemente votata, abbiamo la possibilità, assieme alla Regione, di poter costruire dei pacchetti ferroviari su queste ferrovie che possono dare a questi luoghi delle prospettive turistiche di grande importanza. Hanno dei beni importanti da valorizzare, possono esserli fatti mettendo in comune un progetto che le Regioni sapranno sicuramente sostenere. Questa è la prospettiva che vogliamo perseguire.